Primo derby di promozione al Paolo Sciamanna di San Vitale tra Viole ed Assisi. Pronti via al terzo e Buffa ad innescare Tofi che da destra cerca un diagonale che però sfiora il palo opposto rispetto all'incrocio tentato dall'esterno bianco-verde. La partita va avanti come ogni derby che si rispetti, combattuta ma al tempo stesso ragionata con rispettivamente lo stesso Buffa ed Ercolanoni che tentano gli inneschi per i loro avanti. Al ventesimo infatti la prima grande occasione è proprio sui piedi di Fagotti che si libera bene cerca di angolare alla destra di Ceccarelli ma forse la precisione va a scapito della potenza e il numero uno Assisano riesce a deviare in angolo. Sugli esiti del stesso corner al ventunesimo si invertono le parti ed è Buffa a provarci con una stoccata respinta con riflesso distinto da Ceccarelli. Al ventiquattresimo ancora Viole con Tofi che al volo su un rimpallo difensivo ospite incerto lancia la palla oltre la trasversale. Quasi alla mezz'ora al ventinovesimo il break dell'Assisi con Ercolanoni che su gli esiti di un piazzato tenta una mezza girata dai 15 metri. Il minuto del gol è il trentaquattresimo con Fagotti che da destra con un ottimo movimento si libera va a smarcarsi fino ad aggiungere al tiro ad incrocio che beffa Ceccarelli. Il finale di tempo un'occasione per parte al quarantesimo Tofi tiro cross salvato quasi davanti a Ceccarelli da Bistoni. sugli esiti della respinta Mattioli si avventa cerca la porta di testa ma Cercarelli si salva ancora in calcio d'angolo. Sul fronte opposto è Balashov che da buona posizione non c'entra però lo specchio di porta. Secondo tempo inizia pronti via con il calcio di rigore per l'Assisi. Sul dischetto va Manga dopo un fallo di Palmieri su Cacciavillani. Manga però non riesce a trovare direttamente la porta. Prima respinge il portiere avversario poi la traversa. Finalmente Ercolanoni va a sopraggiungere l'appoggio in rete. Ecco che al ventiquattresimo Righetti va in golla. Parte poco avanti il centrocampo. scappa via in velocità e insacca ancora con un preciso diagonale da destra verso sinistra. Stokic viene espulso al quarantaquattresimo. Poi succede l'imprevisto. Nel secondo minuto di recupero e Fagotti che direttamente sul calcio di punizione trova l'angolino a scendere alla sinistra di Ceccarelli. Ma non finisce qui perché nell'ultimo minuto di recupero Balashov sulla sinistra fa tutto da solo e con un preciso raso terra batte Gorietti. Quindi finale Viole due assisi tre. Dicevi te è un bel derby. Con un pochino di amaro siamo rimasti però veramente un bel derby giocato bene da entrambe le squadre con la cattiveria agonistica giusta e niente purtroppo abbiamo fatto un paio di errorini che ci hanno penalizzato però dobbiamo pensare a domenica prossima e andare avanti domenica dopo domenica. Sì, noi sapevamo che era una partita difficile perché loro venivano da un buon filotto erano i primi in classifica e sull'espulsione siamo andati un pochino in difficoltà perché giocando in dieci su un campo così piccolo sapevamo che la difficoltà era alta ci hanno recuperato e poi siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio non abbiamo mollato fino alla fine e penso che alla fine la vittoria sia meritata. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!